A tutti buonasera, buonasera dal TG Prato, tutto esaurito al Metastasio ieri sera per Francesco Nuti che ha assistito alla prima dello spettacolo dedicato alla sua vita, alla fine è salito sul palco per salutare il pubblico, c'è stata molta commozione, tanta attesa stasera per il BIS. Claudio Vannacci. Vi saluto con un bacio in bocca e mi raccomando fate sempre all'amore. Così prendendo in prestito la voce del fratello Giovanni, Francesco Nuti ha voluto salutare e ringraziare i tanti pratesi che ieri sera hanno riempito ogni posto del Metastasio per la prima nazionale dello spettacolo Francesco Nuti è andata caduta e ritorno, tratto dall'autobiografia dello stesso Nuti sono un bravo ragazzo, spettacolo che sarà replicato stasera. Tanta emozione in sala durante l'intero spettacolo e uno scrosciante applauso alla fine ha accolto l'ingresso di Francesco Nuti sul palco, accompagnato dal fratello Giovanni e dalla figlia Ginevra. Nuti in carrozzina ha calcato di nuovo così le assi che lo hanno visto debuttare tanti anni fa. L'indimenticato cecco da Narnali ha salutato il suo pubblico, ricevendo in cambio un applauso interminabile. È stato poi il fratello Giovanni a dare voce ai pensieri del grande artista leggendo una lettera scritta da Francesco. Cari concittadini, sapete quando una storia è finita? Ve lo dico io, una storia è finita quando non c'è più nessuno che la racconta. Io la mia storia l'ho raccontata a voce piena con il cabaret, le canzoni e il cinema. Ora racconto con la voce degli amici e di chi mi sta accanto da sempre. Lo spettacolo che ha debuttato in anteprima lo scorso 5 agosto al Castello Pasquini di Castiglioncello è scritto e diretto dal giovane regista e sceneggiatore romano Valerio Groppa ed interpretato da Nicola Picci nel ruolo di Francesco Nuti e Alessio Sardelli in quello del narratore. Nella rappresentazione che è un vero e proprio viaggio nel mondo di Francesco Nuti, uomo e artista, le musiche coinvolgenti si alternano ai monologhi scritti dallo stesso Francesco e recitati da Nicola Picci. Un viaggio emozionante dentro la vita e la carriera di Cecco D'Annarnali senza nascondere anche i momenti tristi e brutti. Aereoplanini di carta sull'albero di Natale del comune di Prato, un chiaro gesto dimostrativo ma anche goliardico contro il nuovo aeroporto di Firenze. Intanto nella capannuccia, quella allestita in piazza Duomo per il presepe, finalmente è arrivata la rappresentazione della natività. Guardate. Natale è passato ma gli addobbi sull'albero offerto dall'amministrazione comunale alla città e sistemato quest'anno per la prima volta in piazza Duomo sono aumentati. La scorsa notte sono comparsi accanto ai fiocchi areoplanini di carta e la scritta Cecchin per Etola. Un chiaro gesto dimostrativo oltre che goliardico dopo la decisione del sindaco Biffoni di non presentare ricorso al TAR contro il nuovo aeroporto di Firenze. Un modo per continuare a tenere viva una protesta che ha conosciuto momenti di tensione e non ha risparmiato dure critiche nei confronti di Matteo Biffoni, contestato nei consigli comunali dedicati allo sviluppo dello scalo fiorentino e alle ripercussioni che l'infrastruttura avrà sulla città. E poco importa che nei giorni scorsi il consiglio comunale abbia approvato all'unanimità un ordine del giorno che impegna il sindaco ad avviare l'iter per uno studio di impatto ambientale sull'aeroporto. Evidentemente per chi ha arricchito l'albero di Natale con gli aeroplanini di carta conta solo che il ricorso al TAR non è stato presentato. Dall'albero di Natale alla capannuccia in legno allestita in piazza Duomo con il contributo della Banca Popolare di Vicenza. Con un po' di ritardo ma che dire meglio tardi che mai è comparsa una natività. Ciò che conta è il simbolo, la rappresentazione, un quadro nulla a che vedere con il presepe che tutti ci aspetteremo di trovare davanti alla cattedrale. Nei giorni scorsi la capannuccia è stata fonte di polemiche. Il 25 dicembre è stata lasciata vuota ispirando più di una presa di giro. La diocesi ha poi spiegato che doveva servire a ospitare il presepe contest curato via via dai vari gruppi parrocchiali. Presepe contest che c'è stato in effetti ma la durata è talmente breve che la capanna è rimasta a lungo vuota mentre sarebbe bastato un presepe anche piccolo per darle un senso, il senso religioso. Quello che è stato è stato. Oggi finalmente è comparso qualcosa che richiama la natività. Come dice il vecchio adagio basta il pensiero. E adesso vi diamo qualche suggerimento se ancora non avete deciso come salutare il nuovo anno che arriverà. Mancano ormai meno di 24 ore alla notte più lunga dell'anno e anche Prato si prepara per accogliere i tanti che avranno deciso di restare in città per dare il benvenuto al 2015. Non sarà Piazza Duomo la location di Brindisi Aguri. Le iniziative si snoderanno per tutto il centro grazie all'amministrazione cittadina e a Fonderia Cult Art e alla collaborazione dei locali pratesi che daranno vita ad una staffetta di brindisi, concerti e DJ set. Ad aprile alle 23 la notte di San Silvestro il Wallace Pub in Piazza Mercatale, il Camelot 3.0 e Ozne Pub. Sempre prima della mezzanotte un salto ed obbligo allo spazio Recuperiamoci di Via Cironi dove il ristorante De Canter e il Controsenso Club hanno pensato una lunga notte di musica in console. Dopo il conto alla rovescia dalle 1.30 ci si sposta in Via Genova al Capanno Blackout con gli Aucan, attualmente il più importante progetto di musica elettronica italiana. Per chi ti messe il freddo le alternative non mancano. All'Estra Forum di Maleseti, Kellerplatz, Villa Fiorelli e Prato City, patrocinati dal Comune di Prato, si sono uniti per l'Extra Eve Party. Il filo conduttore saranno rimpianti anni 80 e 90. Chi sceglierà Maleseti potrà anche fare l'ultima buona azione del 2014. Metà dell'incasso della serata, 25 euro comprensivo di una consumazione di spumante per il brindisi, saranno devoluti all'Associazione per la lotta all'ictus celebrale. La Camerata Pratese saluterà il nuovo anno al Politeama a partire dalle 22.30 con il tradizionale concerto di San Silvestro che quest'anno percorrerà melodicamente le diverse espressioni dell'amore. Restando in tema di dolcezze, ma questa volta gastronomiche, dalle 2 fino alle 6 del mattino al Bar Magnolfi vi aspettano buonissime ciambelle offerte dal Comune di Prato. Non solo Prato si vestirà a festa domani sera, a Montemurlo il conto alla rovescia verso la mezzanotte lo scandirà il folk rock dei Porto Flamingo e lo sfumante e il panettone ve li offriranno il Comune e la Proloco di Montemurlo. Insomma, le proposte in città per la notte più lunga dell'anno sono tante e varie. A voi la scelta e ovviamente buon anno. Ha collezionato così tante infrazioni da meritare di entrare a far parte del Guinness dei primati. Si tratta di un cinese, 46 anni, residente a Prato, che è stato sorpreso dalla Polizia Municipale per la seconda volta alla guida senza patente. L'uomo guidava l'auto del figlio nonostante fosse privo di patente e che la stessa auto fosse già stata sequestrata perché usata in precedenza appunto dal figlio non patentato. L'uomo è stato inoltre sanzionato per mancato uso delle cinture e anche per circolazione in senso vietato. Non è tutto. L'auto era anche sospesa dalla circolazione perché priva di revisione e assicurazione. Il cinese è quindi stato denunciato, dovrà pagare una multa di oltre 4.000 euro. L'auto questa volta è stata sequestrata e potrebbe essere destinata alla confisca. La politica Forza Italia, conferenza stampa di fine anno, l'augurio al sindaco Biffoni, alla sua giunta e alla città tutta è quella di meno renzismo e più fatti. Meno renzismo e più fatti è l'augurio di Forza Italia a Prato e ai Pratesi. Nella conferenza stampa di fine anno il segretario provinciale e il capogruppo in consiglio comunale hanno tirato le somme dei primi sei mesi di giunta Biffoni e se fino a oggi l'atteggiamento del primo partito di opposizione è stato attendista, ora è il momento di dare giudizi, tutti negativi. Noi abbiamo dato alcuni mesi di tempo alla giunta Biffoni per prendere in mano le redini di questa città e abbiamo fatto in questi mesi veramente una opposizione costruttiva. Adesso purtroppo prendiamo atto che la situazione non è così florida come molti elettori si sarebbero aspettati. Bocciatura su tutti i fronti, l'elenco comincia dalla pressione fiscale con il comune di Prato che è stato il quarto in Italia per tasi più cara. La tasi che abbiamo pagato in questa città è completamente fuori dal mondo. Doloroso e preoccupante secondo Forza Italia il capitolo cultura, metastasio e pretorio in primis. Un pretorio che ci rappresce, quindi la nostra carta di identità muore, muore perché questa città se non si fanno gli eventi, se non si cerca di portare le persone, non ci arrivano a Prato. Se la giunta Cenni ha pensato a fare eventi non è una vergogna se la giunta Biffoni gli ripropone. Siamo abbastanza preparati per sapere che il teatro metastasio ad oggi non si declassa, per carità, non è quello che noi diciamo. Noi vogliamo colpevolizzare una politica che ha abbandonato questa città, compreso il metastasio. Bocciatura anche sul fronte della sicurezza. Il vero problema di questa città è la sicurezza, gli scippi, le rapine, i furti in casa. Quanto ai poco lusinghieri apprezzamenti di alcuni assessori attuali rispetto al lavoro della giunta Cenni. Le scelte politiche sono tutte legittime, per carità, anche indipendentemente dal fatto di pensarla in modo diverso. Però ogni qualvolta si deve, si parla e si critica in maniera anche pesantemente l'operato di chi ti ha preceduto. Non è stato il nostro modo di operare quando eravamo forza di governo, non lo è neppure adesso con il ruolo di opposizione. Chiudiamo con una bella notizia perché vi raccontiamo un'esperienza di buona sanità a Prato. Raffanelli. In campo medico Prato si conferma polo all'avanguardia per sperimentazioni e tecniche innovative. L'ultima frontiera che attesta l'AS4 di Prato tra le eccellenze non solo regionali ma nazionali è l'attività di cateterismo venoso centrale a media e lunga permanenza coordinato dal dottor Vito Silvestri. Ormai tutti gli ospedali stanno sviluppando questo tipo di servizi. Noi abbiamo cominciato presto, addirittura prima di tanti ospedali anche più importanti. Siamo diventati un centro di riferimento non solo regionale ma anche nazionale. Collaboriamo con l'Università Cattolica di Roma ormai da tanti anni e devo dire che questo ha permesso di farci arrivare a dei livelli sicuramente alti. L'attività di cateterismo venoso centrale a media e lunga permanenza è fondamentale ad esempio nelle terapie chemioterapiche per pazienti oncologici. Permette di combattere una battaglia che sarebbe difficile portare avanti senza avere la possibilità di accessi venosi sicuri. Un'altra categoria importante sono i malati dializzati che attraverso questi cateteri possono continuare a fare la dialisi quando tutte le altre possibilità sono state esaurite. L'apertura dell'ospedale Santo Stefano ha permesso un balzo in avanti all'equipe che applica questo trattamento mettendo a disposizione attrezzature tecnologiche moderni, una sala attrezzata e personale medico formato nel seguire non solo la parte operativa ma anche la fase di follow-up, controlli rimozione del catetere, gestione di eventuali problematiche ed altro ancora per tutto il lungo periodo. Il programma prossimo sarà proprio quello di cercare...